Buonasera telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv, seconda edizione del nostro telegiornale. Viaggia su smartphone e smartcard la rivoluzione digitale del trasporto pubblico locale dell'Emilia-Romagna. Sono quattro i progetti che partiranno tra oggi e marzo 2019 per rendere più semplice muoversi su treni e bus. Da Piacenza-Rimini a tutto vantaggio di pendolari, turisti e cittadini. Le novità sono state presentate oggi a Bologna dall'assessore regionale alla mobilità Raffaele Donini e i rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale. Cambia tutto perché da oggi, dai prossimi giorni, sarà possibile attraverso un'app con lo smartphone applicare appunto la piattaforma Roger attraverso la quale tutti i cittadini potranno non solo essere informati della miglior traiettoria di trasporto pubblico locale ma addirittura acquistare i biglietti di treno, di bus e validarli a bordo. Significa anche che la tesserina Mi Muovo diventerà un borsellino elettronico a disposizione di tutti i cittadini che lo richiederanno che potrà consentire anche ai non abbonati di poter prendere appunto un treno o un autobus all'improvviso con quella tessera prepagata. Finalmente arriverà l'applicazione anche Chiamatreno per i treni regionali e poi ovviamente ci sono tanti altri progetti di informativa, di informazione evoluta, penso per esempio all'accordo storico che abbiamo fatto con Google che consentirà appunto di vedere su Google Maps non solo le traiettorie per il trasporto veicolare ma anche in tempo reale tutti gli autobus e tutti i treni della regione media romagna in modo da poter potenziare il trasporto pubblico locale. La cronaca, un incendio scoppiato ieri sera alle 20 circa in un'abitazione in via Bondanello a Castel Maggiore. È stato necessario l'intervento di 25 vigili del fuoco con due autopompe, serbatoio, due autobotti, due autoscale e un mezzo per la scorta di autorespiratori provenienti da varie sedi del servizio della provincia. Il rogo si è sviluppato ai piani alti dell'edificio per causa in via d'accertamento e ha coinvolto il tetto in legno di un fabbricato sul quale è installato un impianto fotovoltaico. Il fuoco che ha da subito si è propagato rapidamente è interessato le strutture della copertura in legno. Le operazioni di spegnimento particolarmente complesse sia per la caratteristica costruttiva del tetto, del tipo ventilato, sia a causa dell'oscurità e delle avverse condizioni meteo. Si sono protratte fino oltre a luna di notte, fanno sapere i vigili del fuoco. Le strutture della copertura e i locali sottostanti pertinenti tra diverse unità immobiliari hanno subito danni rilevanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E cambiamo argomento, si è da poco conclusa la missione di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi in Sud Sudan con la ONG Medici con l'Africa QAM, una visita che ha avuto lo scopo di richiamare l'attenzione della comunità nazionale, internazionale ed ecclesiale su una realtà così martoriata come quella del Sud Sudan, oltre che di toccare con mano l'impegno che il QAM porta avanti da oltre dieci anni, nonostante le difficoltà e i conflitti interni. L'arcivescovo Zuppi è stato intervistato proprio mentre si trovava appunto in Africa. Sentiamo. La visita nasce dal meeting annuale del QAM che si è tenuto quest'anno a Bologna. È stata anche una gioia per tutta la città di Bologna, ovviamente anche per la chiesa di Bologna, un momento di grande riflessione e anche di allargamento delle prospettive. Da questo è nata la visita in Sud Sudan, per certi versi ne è stato un po' un frutto, un paese il più giovane in Africa, segnato da tanta violenza, dalla guerra di questi anni, in cui manifestare soprattutto la vicinanza, il sostegno e perché l'impegno del QAM possa crescere e dare i frutti desiderati. E che la pace purtroppo non è soltanto quella che si firma, ma è qualcosa che dobbiamo difendere, far crescere. Quando manca, come si vede, tutto viene ritardato, tutto viene distrutto, quindi si perdono tantissime occasioni. Quindi è un paese che sta iniziando adesso. L'impegno, la presenza, il sostegno serve in un momento così delicato perché o si rafforza la pace o c'è il rischio che si possa riprendere un clima di violenza. Ho trovato davvero tanta voglia di guardare avanti, ma anche ancora la necessità di spingere perché questo si trovi le soluzioni adeguate. Nel room back effettivamente si capisce la difficoltà sia di approvvigionamento ma anche proprio di mandare avanti una struttura che serve più di mezzo milione di persone, quindi un bacino di persone molto grande con una struttura oggettivamente molto limitata con molte difficoltà. Per questo si capisce anche quanto è decisivo il lavoro del QAM, medici con l'Africa. E poi ha colpito il fatto che sono medici ugandesi, questo è un grande buon segno per il futuro. Vuol dire che davvero l'Africa ha cominciato ad aiutare l'Africa e il sostegno della solidarietà internazionale, della vicinanza e anche della Chiesa evidentemente in questo senso credo che va nella direzione giusta. Quindi davvero medici con l'Africa, l'Africa con l'Africa, ma anche Europa con l'Africa. Ad accompagnare l'arcivescovo Zuppi in Sud Sudan c'era il direttore di medici con l'Africa QAM Don Dante Carraro che sentiamo nell'intervista. I obiettivi che ci sono andati sono due. Il primo è quello insieme a Monsignor Zuppi, arcivesco di Bologna, insieme con il QAM per ribadire l'importanza della pace in Sud Sudan. È un piccolo albero che è già iniziato ma dobbiamo fare ogni sforzo per sostenere questo processo che è un processo di pace senza la quale non c'è futuro per il Paese. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è quello di dire anche che la pace si costruisce partendo dal basso. Le parole sono importanti ma non sono assolutamente sufficienti. servono fatti concreti, gesti concreti e quello che facciamo partendo dal basso, iniziando in quell'ultimo miglio del sistema sanitario dove la gente praticamente soffre, mambe e bambini in particolare. La pace ha bisogno soprattutto di convincere la gente che la pace conviene rispetto alla guerra e conviene se la vita cambia. Noi abbiamo iniziato nel 2007, siamo nel 2018, tanto resta da fare ma molto è stato fatto. Questo è il nostro impegno insieme anche e con la diocesi di Bologna, Monsignor Zuppi, ma tutte le persone che vogliono unirsi in questo sforzo con noi. Si sottolinea soprattutto quel Medici con l'Africa. Siamo qua per sostenere il sistema sanitario locale, vuol dire gli ospedali, i centri sanitari, la comunità, lavorando insieme, lavorando insieme. Abbiamo 5 ospedali, 160 centri sanitari, moltissime comunità, personale che stiamo formando via via. 20 ostetri che si sono laureati l'anno scorso, un paese che ha pochissimo personale qualificato. Lo sforzo che abbiamo è quello di insieme fare formazione delle persone locali, perché solo così diamo futuro a questo paese. Si è svolto oggi pomeriggio l'incontro natalizio tra l'Associazione Bologna e al centro l'Officina delle Idee del Vescovo Ausiliare Emerito Ernesto Vecchi per riflettere sul tema della Natale che verrà. Ascoltiamo le parole del Vescovo Ausiliare Emerito intervistato dal nostro direttore Francesco Spada. Cos'è il Natale? Non ha niente di quello che di fatto si fa. Cioè abbiamo bisogno di scoprire che il Natale è Dio che per amore si fa uomo per restaurare l'uomo dal suo peccato e quindi coinvolgerlo in un futuro di una felicità senza fine che è il Paradiso, la vita eterna. Tutto il resto sono cianfrusaglie che coprono il Natale, che sono nate buone perché quando c'è un avvenimento importante indubbiamente si fa festa. Qui è come in certe zone che fanno festa ma non sanno più il perché. Ah c'è anche la processione? Magari è proprio la festa del patrono però non lo sanno più e quindi abbiamo bisogno di recuperare una memoria che possa veramente aiutarci a vivere nel presente e anche preparando il futuro. Senta, visto che in questo luogo e anche in questo Bologna al Centro è un luogo di pensiero anche politico, il suo pensiero politico in questo momento? Beh, io sono sempre stato democristiano e voglio morire democristiano che vuol dire cioè ispirare la politica non in modo clericale come pensano che siano i democristiani ma una politica ispirata dal Vangelo per cui non deve essere né clericale né laicista come è oggi. In nome di laico lo attribuiscono male, sono laicisti. Quando si dice io sono laico io rispondo anche a me sono laico perché do a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare perché la laicità è questa. È venuta questa mattina la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante militare dell'esercito per l'Emilia Romagna tra Cesare Alimenti e Fabrizio Ghiretti. Ascoltiamo le parole del comandante uscente Cesare Alimenti alla microfono di Mario Giulianti. Detto nel mio discorso sono parole veramente sentite anche se ci ho impiegato qualche giorno per scrivere questo testo. Per me Bologna rappresenta tantissimo, è stata una delle prime sedi della mia famiglia dove io ho cominciato a camminare qui a Bologna e poi come ho detto ho frequentato la prima elementare. Poi ho proseguito le strade militari di mio padre. Non so, io penso che sia una dote, tutti dovremmo avere questa dote. L'umiltà, non si comanda col grado, si comanda con la professionalità, con l'esperienza e poi anche con la responsabilità, ma non ne col grado. Quindi bisogna sempre iniziare il primo passo con l'umiltà verso coloro i quali che molto probabilmente spesso ne sanno più di te. Quindi apprendere velocemente e poi applicare le cose buone. Ecco, dal discorso viene fuori anche una voglia di fare di più per Bologna, quello che lei lascia, però ha già fatto tanto lei, quindi continuare su questa strada. Sì, guardi, io mi metterò a disposizione. Forse non riuscirò a mettermi a disposizione per Bologna, però posso assicurarvi che per il mio paese, che mi ospita ormai dal 1986, Castenaso, io cercherò di fare quello un po' di volontariato, qualsiasi cosa mi metterò a disposizione della cittadinanza e delle persone che ne hanno bisogno. Soddisfazione e commozione anche per il nuovo comandante Fabrizio Ghiretti. Lo sentiamo ancora con Mario Giulianti. È un passaggio molto importante. È vero che in apparenza cambia anche poco, perché la caserma è sempre la stessa. Cambia la scrivania, ma con la scrivania sono cambiate anche le responsabilità. Come ho detto prima, il brevissimo discorso che ho fatto è un incarico veramente prestigioso, importantissimo. Mai mi sarei aspettato di poterlo ricoprire, però adesso sono veramente orgoglioso di poterlo ricoprire e ovviamente mi spenderò al massimo per farlo nel migliore dei modi. Il generale alimenti per me è stato sempre un superiore, ma soprattutto un amico. Io da lui, come ho detto, ho imparato veramente tanto, ma quando si ha un amico sul lavoro, un amico vero sul lavoro, ecco, c'è anche un discorso diverso, c'è un approccio di lealtà e di lealtà molto intenso, molto stretto. Insomma, io so che mi posso fidare di te, tu sai che ti puoi fidare di me, ecco, si forma quello che si chiama poi spirito di corpo nel nostro ambiente. Un legame molto solido, inscalfibile. Ecco, perché devo dire che da una parte sono contento di assumere questo comando, da un'altra parte sono anche molto dispiaciuto che il generale alimenti purtroppo se ne va. Un'eredità importante per continuare a lavorare sulla città di Bologna? Non v'è dubbio, non v'è dubbio, un'eredità importante. Cercherò naturalmente di seguire, come ho detto il suo esempio, anche in questa circostanza, aggiungendo ovviamente poi qualcosa di mio. E questo, insomma, poi è inevitabile. Ancora alla cronaca sono sconosciuti i motivi che hanno portato un 39enne a malmenare un gruppo di uomini più anziani in pieno centro. Nella serata di Ia Ieri, per l'aggressione, l'uomo cittadino barocchino è stato poi arrestato dai carabinieri di Imola. Tutto sarebbe originato dagli sguardi che i signori si erano fermati a fissare nei confronti dell'uomo che intorno alle 19.30 di ieri sera era visto aggirarsi lungo via Mazzini, palesemente in stato di ebrezza. Per tre delle vittime, tra i 66 e i 77 anni, è stato necessario il ricorso alle cure del 118 con una prognosi di otto giorni. Cambiamo argomento, si è tenuta oggi la cerimonia di deposito ufficiale della ricetta originale degli spaghetti con il tonno alla bolognese. Una ricetta povera ma che ha tanto di tradizione. Ce ne parla ai nostri microfoni già da grandi il segretario generale della Camera di Commercio di Bologna alla quale abbiamo chiesto un'opinione anche sugli spaghetti alla bolognese. Spaghetti al tonno, tra l'altro io rileggendo la ricetta effettivamente sono ritornata bambina perché è vero, nelle nostre cucine c'erano, proprio nelle giornate di magro. Per la Camera di Commercio di Bologna è sicuramente una ricetta in più delle tante che già conserviamo e di cui la Camera è custode, della tradizione culinaria della nostra città e di tutto il nostro territorio perché come potete vedere nella ricetta è richiamata anche la cipolla preferibilmente di medicina perché è vero che anche i prodotti della terra differiscono tra loro a seconda di dove sono coltivati. Peraltro la regione Emilia-Romagna è la regione che ha più prodotti IGP e DOP e quindi anche la tutela del prodotto trasformato come sono le ricette è sicuramente una testimonianza dell'importanza dei nostri territori dal punto di vista della produzione e della trasformazione poi dei prodotti. Parliamo di spaghetti, allora io tocco anche l'argomento di un altro tipo di spaghetti cioè quelli alla bolognese. Su quello che cosa si può dire? Perché insomma c'è chi dice no, invece nella tradizione bolognese ci sono chi invece dice assolutamente no, è un'eresia lo spaghetto alla bolognese. L'importante è che si parli di Bologna. Effettivamente immaginare le nostre tagliatelle in certi paesi del mondo è difficile proprio perché la tagliatelle è un prodotto anche questo artigianale, manuale diversamente dallo spaghetto che consente di... che è un prodotto che può essere facilmente esportato proprio perché è fatto anche con materie prime diverse. Però comunque Bologna c'è. Copi-in è il bando indetto da Conf Cooperative Emilia-Romagna in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita. Oggi sono stati premiati gli otto progetti vincitori tra quelli che hanno partecipato al bando. Andiamo a sentire il bilancio di Francesco Milza, il presidente di Conf Cooperative Emilia-Romagna. Nasce nell'ambito di questi cinquantesimo anno di Conf Cooperative Emilia-Romagna è uno sguardo sul presente rivolto al futuro. lo abbiamo fatto per valorizzare quelle che sono le nostre imprese più innovative e non solo in termini, se vogliamo, di processo piuttosto che di prodotto ma anche proprio di innovazione to-cure, dall'innovazione sociale alla rivalorizzazione di pezzi di territori abbandonati al riciclo di materiali in disuso. cioè idee innovative che però abbiano un significato non solo economico ma anche di impatto sociale. Questo è un po' il senso di questo premio, di questo riconoscimento e che deve essere anche per noi una modalità di presentare buone pratiche cooperative. C'è soddisfazione sia per la qualità dei progetti presentati sia per il numero di progetti che sono arrivati? Sì, sono arrivati ben 30 progetti. Devo dire che su un tema così un po' particolare non ci aspettavamo un numero così alto di partecipazione. È un segnale positivo e di vitalità della cooperazione. Spesso viene letto in chiave un po' tradizionale. In realtà dentro il nostro mondo ci sono tanti innovatori e tanti processi che possono, tra virgolette, contaminare anche altri mondi. Chi vince? Cosa vince? Chi vince, vince. C'è un premio in natura economica che è un assegno di 1.000 euro e vince, tra le altre cose, secondo me è ancora più importante, la possibilità di essere circuitati all'interno da parte di Conf Cooperative Nazionale su tutta una serie di mondi di altre province, di altri territori, affinché questo modello, oltre a diffondersi, attecchisca anche in altre situazioni territoriali. Soddisfazione anche da parte della rappresentante per la Regione Emilia-Romagna, l'assessore alle attività produttive Palma Costi. La cosa veramente straordinaria è che c'è una voglia di innovazione con un'attenzione fortissima al territorio e al sociale, ma non inteso in modo assistenzialistico, è inteso proprio come opportunità di dare risposta a bisogni vecchi e nuovi creando imprese, oppure rafforzando le imprese che ci sono e quindi creando posti di lavoro duraturi sul territorio. Conf Cooperative è da tempo impegnata su questo fronte, devo dire che i progetti di oggi sono semplicemente straordinari perché coniugano davvero la capacità di andare oltre alle solite teorie che noi sentiamo tutti i giorni, anche economiche, finanziarie e quant'altro, quindi come Regione non solo stiamo sostenendo questo lavoro che si sta facendo in tutta la Regione, ma stiamo anche promuovendo l'innovazione sociale come elemento di competizione e di competitività per il futuro. Emilia-Romagna rimane al passo coi tempi, anzi vuole crescere ulteriormente e questi progetti ne sono la dimostrazione. Sì esatto, noi vogliamo crescere ma non ci interessa solo la crescita quantitativa, ci interessa anche la crescita qualitativa. L'Emilia-Romagna ha sempre rappresentato un esempio per quanto riguarda lo sviluppo ma anche la coesione dei cittadini. Noi vogliamo rimanere su questo solco, ci interessa certamente la parte economica, la creazione di ricchezza è fondamentale, ma ci interessa anche la redistribuzione della ricchezza perché tutti i cittadini possano avere un buon grado di benessere. In Emilia-Romagna il 37% delle donne si licenzia perché diventa madre contro il 2% dei padri. A dirle è una ricerca condotta dall'Ispettorato interregionale del lavoro presentata questa mattina a Bologna. La ricerca ha fatto da sfondo la presentazione di un vademecum che contiene consigli e opportunità che l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna insieme all'Ispettorato mettono a disposizione dei lavoratori. Stefano Marconi dell'Ispettorato del lavoro interregionale e la consigliera regionale alle pari opportunità Sonia Alvisi hanno firmato un protocollo d'intesa che con un piano quinquennale intende intensificare l'attività di tutela genitoriale e l'accesso al mondo del lavoro. Andiamo a sentire l'intervista. Abbiamo un tavolo tecnico per poi creare un vademecum per i lavoratori e le lavoratrici perché abbiamo il problema delle dimissioni delle donne che diventano madri nei primi tre anni di vita dei bambini. Abbiamo un dato molto importante che sono numeri di grande importanza che riguardano anche la regione Emilia-Romagna una regione all'avanguardia però non possiamo, si classifichiamo terzi prima Lombardia, secondo Veneto, terza Emilia-Romagna è un dato quindi che ci interessa andremo a creare un vademecum per le lavoratrici e i lavoratori e andremo a supportare col protocollo di oggi facciamo una collaborazione importante con l'ispettorato del lavoro perché le lavoratrici si recano presso l'ispettorato a fare le dimissioni e adesso con questo nuovo protocollo nel momento in cui l'ispettore o l'ispettrice prende le dimissioni e verifica delle problematiche chiede l'intervento della consigliera per analizzare più a fondo la problematica che porta la lavoratrice a dare le dimissioni poi andremo a supportare e a lavorare sulle discriminazioni in ambito lavorativo e sul molesti in ambito sempre lavorativo un tema molto caldo che sto trattando con il corso di diritto di antidiscriminazione di alta formazione per creare una short list di avvocati e avvocati esperti in materia e con l'ispettorato andremo ad analizzare proprio nel momento in cui rileviamo delle problematiche come consigliere di parità vedere di entrare nelle aziende ed andare a analizzare il problema specifico che riguarda appunto o discriminazione o molestia in ambito lavorativo I libri della Buonanotte sono una collana di libri edita da Minerva l'ultimo che racconta la storia di Rossini è stato presentato proprio ieri sera all'hotel Majestic ce ne parla l'editore Roberto Mugavero Minerva va avanti quest'anno 100 titoli e il prossimo anno entreremo nei nostri 30 anni di vita quindi è una bella storia insomma fatta di tanti libri e quest'anno siamo qui a presentare il quinto libro di una collana che abbiamo intitolato I libri della Buonanotte perché siamo dentro un hotel un grande hotel di Bologna il grande hotel Majestic Baglioni e non si poteva che accogliere la gente con un piccolo libro siamo arrivati al quinto e quest'anno siamo nell'anno di Rossini ovviamente Rossini a Bologna e quindi abbiamo voluto dedicare agli ospiti perché questi libri hanno una particolarità sono reverse quindi sono italiano-inglese e chi viene a dormire in questo albergo può sapere un po' delle nostre storie quest'anno tocca a Rossini al grande quindi un'attenzione anche al turismo assolutamente poi in questo momento Bologna che ha una crescita esponenziale sul turismo non potevamo che dare una visibilità a un grande personaggio chiamato in tutto il mondo L'albero di Natale e il presepe più belli a proclamarli con tanto di premi sarà Confabitare l'Associazione di Proprietari Immobiliari che vuole festeggiare l'arrivo del Natale con l'istituzione ufficiale di un riconoscimento protagonisti assoluti dell'iniziativa saranno ovviamente gli alberi di Natale e i presepi allestiti e addobbati a dovere nelle case e nei giardini dei bolognesi con la passione per le luci e colori composizioni floreali e decorazioni fantasiose molteplici criteri di valutazione che contribuiranno ad assegnare il titolo di primo premio oltre all'effetto estetico verranno considerati anche l'originalità degli addobbi la fantasia dei materiali utilizzati per l'allestimento la scenografia delle luci la varietà e l'accostamento dei colori la scelta finale poi sarà affidata ad una nutrita giuria di esperti che andrà a visionare gli alberi e i presepi a domicilio e terrà conto di tutti questi particolari il concorso poi si concluderà il 6 gennaio ed è aperto ovviamente a tutti i cittadini anche ai non ascritti all'associazione e parliamo adesso di un altro evento che si terrà domani sarà il Crazy Christmas Shopping Day l'evento organizzato dal negozio Monomarca Contatto di Via Indipendenza imprevisto per domani alle 17 un cocktail party con la partecipazione delle più note influencer del territorio disponibili a dare una mano per lo shopping perfetto alcune di queste influencer saranno Chiara Carcano Arianna Bertoncelli Alessandra Gallocchio Margherita Molinari Jennifer Casula Giulia Piombini Palombini Rebecca Blanca Crisci Giulia Amodio e Dominica Adriana ci sarà ovviamente anche il DJ set come in ogni festa a cura di Maxine Augusto era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito grazie alla regia di Andrea Alfano a voi tutti un buon proseguimento di serata